20 anni dopo l'ultimo precedente tra i professionisti, Casertana e Messina si ritroveranno in seconda divisione. Ad accomunarle una partenza stentata, qui però i campani hanno posto rimedio accelerando a seguito dell'avvento in panchina di Ugolotti. Una sola sconfitta e nove incontri da Bioshock è divenuto un lontano ricordo. Sul campo della quarta forza del torneo i giallorossi scottati dal pari casalingo con il Melfi proveranno a dar seguito alla striscia positiva nonostante le tante defezioni in organico. Senza Ignoffo, Simonetti e Corona squalificate, oltre Lungo De Genti, Maiorano, Bolzano e Lasagna, Catalano che ha convocato 18 giocatori sarà costretto a varare l'ennesima formazione inedita. Davanti al Lago Marsini, probabile il terzetto, composto da Cucinotta, De Bode e Silvestri, con guerriere e quintoni confermati sulle corsie esterne. In mezzo al campo, con bucolo e di rientrante Ferreira, dovrebbe essere utilizzato lo spagnolo Ghidana, provato nel test infrasettimanale con il Rometta. Davanti, come accade da qualche settimana, Chiaria unico terminale offensivo con Guadaluppi a supporto, Gerardi dopo la buona prova offerta contro il Melfi è invece pronta a subentrare a gara in corso. Non sta meglio la casertana, Ugolotti dovrà infatti fare a meno degli squalificati Correa, Conti e Cruciani, in difesa complice l'infortunio di Antonazzo. Si rivedrà l'ex giallorosso d'Alterio. Idda, Rinaldi e Pezzella completeranno il pacchetto arretrato davanti al portiere Fumagalli, Marano e Cuciniello per la cerniera di centrocampo, mentre le tre mezze punte a Godirin, Mancino e Dalvino giocheranno a ridosso di Bacle, sbloccatosi sabato scorso contro l'Arzanese.